Trano della memoria. Questa è stata la nostra agita. All'inizio non sapevamo bene cosa aspettarci, ma poi abbiamo capito. Era il vero, unico modo per rimerci a fondo nella storia, per poter metterci nei panni delle persone deportate, per ricordare questa strage. Un'esperienza da fare, almeno una volta nella vita. Perché? Perché è avvenuto, quindi può cadere di nuovo. Perché si deve vedere tutto quello che è successo un secolo scorso sotto gli occhi della popolazione. Perché bisogna agire. Perché bisogna ricordare. Dieci, cento, mille foto non basteranno mai per capire tutto questo, ma proveremo a trasmettere una piccola parte di tutte le emozioni che abbiamo provato alla vista di una nuova realtà. Di certo, con questa agita non riusciremo a trasformare il mondo intero, sensibilizzandolo su questo argomento, ma ora siamo 600 ragazzi più consapevoli e più maturi, con qualche avventura in più da raccontare. E quando tutti insieme usciremo dall'ostello per prendere il bus e tornare a casa, porteremo il peso di una valigia carica di emozioni, ricordi, conoscenza, responsabilità e avventure. Durante questo viaggio abbiamo rivissuto in prima persona l'angoscia e le sofferenze provate dalle vittime dell'olocausto. Uno dei monumenti più importanti realizzato per ricordarle è il Memoriale per gli Ebrei Assassinati d'Europa. Le sue 2711 stelle, poste come un labirinto su livelli di altezza diversi, fanno provare un senso di disorientamento. Ogni persona sceglie il suo percorso, che sarà unico e solo suo. Anche nella vita quotidiana ogni persona sceglie il suo percorso, con le sue conseguenze. È quindi fondamentale scegliere il percorso giusto per evitare che tutto questo possa accadere. Il 9 novembre di 34 anni fa cadde il muro di Berlino, il muro della vergogna che per tanti anni ha diviso in due la città e il mondo. Con il passare degli anni, alla fine della guerra, le condizioni di vita degli abitanti del settore est peggioravano sempre di più, mentre nella zona ovest veniva ricostruita una città basata sul lavoro e sul benessere. Get human, diventare umani, per eliminare qualsiasi tipo di maltrattamento, tortura, persecuzione, guerra e violenza. Essere liberi per essere umani. Immaginate per un attimo di essere uno di questi bambini. Osservate paura nei loro occhi e probabilmente percepite un'angoscia che noi fortunatamente non abbiamo mai dovuto provare. Il terrore che pervade la loro anima è qualcosa di inimmaginabile. E pensate al tremore di ogni volta che uno di loro vede avvicinarsi un ufficiale nazista. Oltre alla paura e al terrore c'è anche la solitudine, la tristezza e la disperazione. Sentimenti che di notte non ti fanno dormire, ma solo piangere. Oggi, a distanza di tanti anni, dobbiamo ricordare le vite di questi bambini e il loro coraggio, impegnarci affinché non accada di nuovo una tragedia simile. È vero, è difficile medesimarsi e provare quello che hanno provato loro, ma è necessario riflettere in modo che questo non accada mai più, perché ognuno ha il diritto di vivere un'infanzia priva di tali atrocità. Uno dei problemi con cui ci siamo confrontati è stato quello dell'individualizzazione delle vittime della tragedia, passare cioè dal considerare le vittime come una massa indefinita a riconoscerle come individui e persone. La vista delle scarpe accumulate, circa 40 tonnellate detto la guida, ci ha permesso di riflettere. Le scarpe viste da vicino infatti non sono un insieme indistinto. Abbiamo visto scarpe da uomo e scarpe da donna, scarpe da bambino e scarpe da bambina, scarpe estive come sandali e ciabatte e scarpe invernali come stivali e scarponi, scarpe di lusso e scarpe modeste. Le vittime della Shoah non sono tutto uguali, tra loro c'erano le stesse differenze che ci sono tra noi oggi. Una rosa rossa per ricordare, posta all'inizio delle rotaie sulle quali viaggiavano gli ebrei che venivano portati verso l'orrore, il male e la morte. Tante, tantissime persone hanno perso la vita su questi trani merci. Le loro condizioni erano pessime, venivano trattati peggio degli animali. A disposizione avevano solo un piccolo secchio per bere e uno per i loro bisogni. I più fortunati riuscivano ad arrivare ad una finestrella per prendere una boccata d'aria, ma la maggior parte non aveva neanche la forza di alzarsi. All'interno erano ammassati per tutta la durata del viaggio, la quale poteva durare anche diversi giorni. Infatti non tutti arrivavano vivi a destinazione. La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare. Del libro delle vittime ci ha colpito principalmente la sua vastità. È incredibile il fatto che al suo interno sia stato riportato il nome di oltre 4 milioni di persone deportate, molte delle quali non hanno più rivisto le loro case e i loro cari. Questo rappresenta un simbolo della memoria, della dignità e della speranza dell'umanità, che ci invita a riflettere sul passato per costruire un futuro migliore. All'interno dei campi la situazione era molto difficile, ma una delle cose che ci ha fatto riflettere di più è ciò che dovevano sopportare le donne e soprattutto i bambini. Questi venivano separati dai genitori e al dolore fisico si aggiungeva la solitudine generata dal distacco. Il sapere che i figli non fossero al corrente del fatto che non avrebbero mai più rivisto i genitori al momento della divisione è uno degli aspetti che fa più male. Una volta separati erano costretti ad affrontare situazioni terribili e spaventose in cui l'unica preoccupazione era la sopravvivenza. Tempo storia, esperienze ricordi. La valigia è il simbolo del viaggio, è il contenitore di memoria, è un oggetto esistenziale, è un oggetto di affezione, è dotato di un valore simbolico universale. La valigia è quella cosa fisica capace di evocare e, contemporaneamente, di conservare le storie in cui passivamente si è imbattuta. Abbiamo realizzato il forte valore di questa parola grazie alle recitazioni a cui abbiamo assistito, nelle quali i soggetti non riuscivano a staccarsi dai loro valori effettivi e da tutti i ricordi presenti in un oggetto così semplice. Abbiamo capito quanto sia stato difficile per queste persone così simili a noi lasciare tutto ciò a cui erano legati. Noi li ricordiamo.